che va state pronti col nascondino del piccicona buggato che dà pure iro e ne amo no com'era webcam logitech tu stava eccolo questa è tutta la roba ambigua che trovi su youtube ah eeeh carino bercoione e ballac che già c'ho vabbè abbiamo via che la coppa a mano dai ma che c'ha 3-3 no 3-4 vabbè abbiamo così tanto per aggiungerlo alla collezione dopo Zidane che la coppa a mano e tutti gli altri campioni ah mio onesta la sfida costa pure poco ma non so se ho sculato io che droppa però vabbè dai manco male costa 79 prime 2 e l'altra costa costa molto costa 150.000 200.000 cacca coppa a mano perché il prime già ce l'avevo poi che hai trovato? ah e si si dice che ci stanno iro che poi hanno capitato fammi chiudere un occhiettino e apriamo piano 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 e un po' di suspense ricalme DS carino è però 25k di carta van bastenca coppa a mano no e questo è cavo non mi sembra di cona questa eh no ah col ma sai che chi il gorillone ha premuto il tasto sbagliato anche perché è una di tre icone todi food birthday trophy titans muta forma cioè nel senso ne sa che qui ha fatto tipo u u u u u u e ha premuto veramente la cosa che non andava premuta è esploso tutto quanto casa sede dovrebbero uscire iro a rifuntare fondano si quando quando mai tipo l'anno del mai premiamo x no ma te lo ridanno anche perché insomma al posto delle icone trovi e iro ne trovi poche per ora ma mi si picca fanno usci pochi e tipo nemmeno non c'era ah c'è le coltoti eh sai qual è la cosa più brutta in realtà che potrebbero levare la sfida e non rimetterla più come hanno fatto tipo coi tots quelli là owen oh questo potrebbe essere bo lampard eh mo bono parolone poteva andare sicuramente meglio si anche perché so tre inglesi tre scemi triple inglesi almeno non so iro ti proprio prendi lampard e poi ficchi in un b che poi a me la piace un sacco belli canottari qui yoshi oggi andiamo a parlare di skycoach la piattaforma leader per quanto riguarda i servizi in game e uno dei servizi migliori in assoluto è quello che riguarda i crediti di fifa dove sono loro estremamente affidabili con una consegna estremamente veloce e al miglior prezzo sul mercato per tutte quante le piattaforme con un ottimo servizio di cashback del 5% ed inoltre con il link con lo sconto del 10% che vi lascio in descrizione detto ciò fatene un buon uso io vi mando un bacione e ciao i connettoti certo potranno fare 4 forse perché ad agosto non regalano le carte che hanno no no dei munge dei munge fino è il 20 di riscatto su transfer market ci resta scritto vabbè ciao sono sempre io chiediamo l'occhettino con questi occhiali vado tipo la faccia quella fake con baffi naso quello rosso gigante gli occhiali a montatura tipo patata quello dei toy story poi chi ci abbiamo l'hame con la ticca sopra che è quello scemo campbell che ancora devo provare sto campbell però non so quanto lo voglio provare oh però il die hero già l'hanno fixati e balla hdd o balla hdd mica scarso cioè carino forse prendere proprio balla hdd che costa mille crediti insomma pazzi è un complimento sì assolutamente dovete prenderli le piate da piate pure le card per piave fifa che c'ha più senso però insomma il resto eviterei a sto punto dell'anno mi sembra veramente esagerato lo ah però io dovevo trovare ronaldo sicuramente tutto da te ancora l'ham però quello un pochettino meglio berkamp 94 e tu berkamp pure nera malaccio auro guarda era carino certo a sto punto del gioco tris de doffi dai danse tris de cojoni cioè de cojoni è che sei ad al punto che i shapeshifter costano due soldi e gli rompono il culo tipo orzolini gli rompono il culo all'ham ma pure tipo quel savage se mette in tasca e sien giusto a sto berkamp potrebbe essere mezzo mezzo simpatico da provare ma niente senti come ha scrocchiato la spalla niente da che allora 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 ricominciamo sto sul mio sto sul mio si su yoshimizu 93 si ma c'hanno 10 anni di differenza vabbè riprovamoci del piero ok però mamma mia ma che l'elettoti blank e ferdinand va bene diciamo che non è che sia proprio un grande un grande pic anzi mamma si si ma scrivemi però scrivemi un messaggio con nick tuo di twitch così dentro l'hai shakerato vanno e non so 20 milioni dei trasferimenti è ben diverso è sul costo a bilancio che c'ha l'operazione che ovviamente più anni di contratto c'ha il calciatore più la spalmi mamma cioè oddio su next è pure carino su old era tutto storto ah call vabbè da questi pirai card dici pure meno male che ma date si si no è possibile che siano usciti tiro perché ha buggato il pick e lo devono restituire quindi niente no quelli sicuramente hai fatto una cazzata però ancora ce l'hai l'anno scorso si è nato a paro si è nato eh non è male son è uno che per quello che costa te posso dire sicuramente per quello che lo vai che lo vai a pagare è uno che vale vale la spesa secondo me ma è 5-5 se muove bene abbastanza passa bene è carino comunque questo pick è l'unico che ho scuolato stato io al momento eh cioè questo è carino ma te direi vampersi non so quanto sa tuttora robin vampersi no vedi un po' però si sicuramente prendere lui robin fammi vedere un po' quanto sa mezzo milione io ho tratto Vierà con la coppa in mano il grande Patrick Vierà ho comprato Ronaldo si è comprovato quindi ci sono tanti per tutti però è forte perché è forte li danno sempre in coppia li danno e lo vediamo ancora finisco che magari una mezz'oretta riuscimo a fare riuscimo a fare comunque potrebbe potrebbe essere una mezz'oretta non la escludo tocca a vedere un attimo questo è carino questa è una bella carta Daniele grazie vi 19 ben tornato Degle grazie ah ho capito Degle che ti fa la cosa del è certo grande Degle ah mi sa che Degle vip così avete due cosa è successo beh dire figo senza se e senza ma anche perché l'articolo due scemi uno è pure hero ma solo 300.000 sa eri grande poi c'è sempre golla dentro come hero ho visto un furlan poca roba no no pizza itas itas apriamo prima questo potrebbe essere mamma mia mamma mia vai con Michael Owen che solo apriamo così boom 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 e vabbè pizza che va via casemiro mamma mia vabbè casemiro su next talisca bay veron che forte che forte veron mamma mia hero e berkamp forse erano me i e prime ogni tanto dava gruif dava zidane dava no so guarda una roba simpatica guarda qua che pippe che sta da una roba devastante e berkamp ma chi va via almeno è 94 quanto sta 80.000 crediti vabbè 100.000 è buono ecco il video che esce domani non 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 penso onestamente c'è questo ah non credo proprio allora non devi aprire una bella volta così per vedere magari sai se vabbè sta pure su spotty fai pizza niente non c'è sta niente di male mica sta a far propaganda sta solo semplicemente ascoltando un pezzo storico che evitiamo di di ascoltare in live sicuramente quella e i vatussi penso siano bannate e potremmo mettere poco una barca di beats però non mi sembra una grande mossa ti viene da cantare vabbè quella di vatussi è un problema l'altra fine che è se prendo la standard dice su ps5 quest'anno sia standard che ultimate hanno la doppia versione ps4 e ps5 incluse l'unica cosa è che la standard riesce il 29 l'ultimate il 22 secondo me vale vale la vale la spesa vale spende qui 20 euro di più per prendere effettivamente matt grazie pesette ben tornato anche perché vedano 40 euro di io voice ovunque con 3 milioni e 200 k 22 settembre a ioti consiglio di andare con franchino e cicalone a garbatella nel sottopassaggio delle fogne farete un bel video mmm.io vuoi venire alla sagra degli gnocchi a ponte corvo a suonare con la bendro più uo 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 figo attt o figo cc eee kailo provi si domani finiamo la vl proviamo quel kail figo boh dipende chi ti interessa dipende dove serve so forti entrambi a me so piaci tutti e due figo non mi aspetta così forte a mezzo al campo mamma ho letto i nomi in pianto dì guardate i scemi 3 92 uno peggio dell'altro td ts e s figo l'avati ho il cc che ho carino e allora si il cc è forte a me piace un sacco mediano a due altri modi dal pick dovresti piarne uno di questi a cazzo infatti io faccio fatti un po' normali un po' un po' alternati e mo vediamo che esce fuori posso dire che so sempre uno peggio dell'altro si può dire Julian Alvarez sta sempre a 2 milioni Valbo comunque se lo vogliamo fiondà forse è l'am per discorso overall ricalme super sub come cdc non è manco brutto però costa poco chiudi l'occhietta strizza tutto eh mo non so se l'ha comprato o ce l'hanno scambiabile però effettivamente Socrates è tanta roba io che lo hanno fatto per lui per non fagli sprecare i soldi da te che è scambiabile eh mi sa che è scambiabile spero te dirò cassa però la cosa secondo me la cosa importante che vale la pena specie per il rapporto giorni crediti fatti e quindi quanto valgono quei crediti che vai a fare vale la pena spendere quei 10 euro in più se vi dividete il gioco e prendere l'ultimate oddio non è bruttissimo è normale cioè è normale è baggato non è che è normale però col fatto che può succedere dovrebbero rifondare il pick tocca capire quando ah perché tanto non è cioè se no mi compro è bella bella magari c'è sta pure a kid the god shavin scemo eh mamma mia questo è uno dei pick più brutti che abbiamo visto veramente veramente brutto per essere brutto mamma mia chi è rune bene ma non benissimo pirlo toti bear camp grande bear camp attio olanda 94 monescono pieno eh potrei farlo sia xbox che play mo mo organizzo per condividere le schermate così almeno chi mo chiede è bello è bello bello carico c'ha tutte le info necessarie per farlo e io continuo a spam my g giustamente olanda 95 olanda 95 olanda 95 Grazie.